I carabinieri della tenenza di Pagani hanno arrestato un pluripregiudicato paganese di 47 anni. I militari, a conclusione di una approfondita attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocearia Inferiore, hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza nei confronti del predetto, il quale ha ritenuto l'autore di ben quattro rapine commesse tra febbraio e maggio del corrente anno ai danni di bar e sale slot del comune di Pagani. Il rapinatore, che era solito agire da solo con il volto travisato, minacciava le proprie vittime con una pistola, facendosi consegnare l'incasso della giornata. In un'occasione, il malvivente si era anche scagliato violentamente contro un avventore di uno degli esercizi rapinati, colpendolo al capo con il calcio della pistola e provocandogli gravi lesioni. Il 47enne è stato associato al carcere di Salerno e dovrà rispondere di rapina aggravata, porto illegale d'armi da fuoco e lesioni personali aggravate.